In qualche modo riescono a mettere la bacca arriva le ragazze di Pesaro che adesso devono scattare per andare a tagliare il traguardo. Sì, 70 anni è un traguardo importante, è un traguardo importante e quindi una celebrazione importante per la storia della Cannottieri Pesaro, che è una storia particolare, essendo stata fondata da Bruno Puglia, quindi un esolo istriano, quindi con tanta passione e con tanti altri valori accessori di inclusione, di collaborazione, di intraprendenza, oltre che di passione per lo sport. 70 anni è un importante traguardo per celebrare la storia della Cannottieri, quindi per ricordarla attraverso le persone che hanno costruito tutta la storia della Cannottieri e che ci hanno consentito oggi di poter guardare al futuro su una base solida. Vorremmo celebrare questi 70 anni non solo con l'evento che è già trascorso, ma anche con altre iniziative che stiamo progettando in questo periodo. Il futuro della Cannottieri chiaramente è un futuro molto audace, diciamo se vogliamo, quindi basato su obiettivi di eccellenza sportiva, di inclusione, di responsabilità sociale e di responsabilità anche ambientale. Tutto questo lo possiamo fare, lo possiamo fare per bene, grazie alla storia che appunto è stata costruita fin qui e soltanto se guardiamo attentamente alla storia, valorizzandone quindi l'eredità che ci ha consegnato e tutta l'esperienza positiva che può essere per noi un bagaglio per poter appunto guardare e costruire un futuro solido e concreto attraverso i giovani soprattutto. Hanno contribuito in maniera significativa alla storia della Cannottieri, in particolare agli ex presidenti, quindi a tutte le persone che con il loro ruolo hanno appunto impostato e contribuito concretamente alla realizzazione della storia della Cannottieri. Quindi attraverso la loro voce, attraverso la voce dei protagonisti, attraverso la voce delle persone che hanno conosciuto i fondatori, ci piaceva ricordare e celebrare questo lungo e importante percorso della Cannottieri Pesaro attraverso i suoi 70 anni. È un documentario che ha anche l'obiettivo di non far perdere la memoria, quindi di lasciare al futuro della Cannottieri, che oggi sono i giovani, un ricordo indelebile di quanto è stato impegnativo il percorso, di quanto ha fruttato, quante cose positive sono state fatte fino ad oggi e quante altrettanto se ne possano fare quindi in futuro. Quindi celebrazione della storia, valorizzazione della storia e ricordo e memoria per il futuro della Cannottieri.